La rete di una porta di calcio sospesa nel cielo, al centro, una panchina vuota con una maglia numero 10 e seduto al tavolo degli imputati, Maradona. Maradona è tornato e racconta il suo vissuto umano attraverso un dialogo visionario con Mercedes Sosa. Diego e Mercedes rivelano il loro genio e l'arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte. L'immortalità. L'immortalità. Sono emozionato, se ne ho anche dimenticato di essere morto. Mi emoziona sempre incontrare fidelo. Forse è stato lui a volermi portare via con sé. E poi le chitarre bailate. Niente e nessuno ti può togliere tutto quello che è ballato, dice un antico proverbio argentino. mi ha dato tanto, mi ha dato la marcha, mi ha dato la marcha, de mis descansados. scopo del mio amici. mi ha dato la marcha, mi ha dato la marcha, di mis sinistra. mi ha dato la marcha, mi ha dato la marcha, mi ha dato la marcha, di mis sinistra. La, 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 la... La 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 la